Venerdì, 22 giugno, 2012. Quest' mattina verso le 10, a Conversano, si è propagato, un incendio presso, un'azienda, di autodemolizione, Sita, sulla provinciale Conversano, Polignano a Mare, probabilmente la causa è stata dovuta alle alte temperature che sta toccando la nostra regione. La presenza di sterpaglia secca, molto probabilmente è stata la causa dell'innesco dell'incendio che ha visto bruciare i tanti automezbi a copertoni dell'azienda. Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco della vicina Putignano, che hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio ancora in corso. Infatti, ci sono voluti più autobotti per domare l'immenso incendio che ha colpito i terreni circostanti della tanta sterpaglia secca. Il servizio è stata a cura di Raffaele Prunella, Info, 333-216-4709. E-mail, sirioartchiocciolalibero.it a cura di Raffaele.it